Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Marvel Spider-Man Per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua Purtroppo Jefferson, l'agente Jefferson ci ha lasciati E come vi avevo detto nello scorso episodio Solo in Spider-Man Ultimate Miles diventa il nuovo Spider-Man al posto di Peter Parker Solo in quel fumetto lì Allora attenzione perché sta succedendo qualcosa Quanti nemici ci sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Facciamo così Allora aspettate Volevo provare a usare lo Spider-Drone Come funziona? Vabbè Arrivo ragazzi Aia Ok, ha replicato immediatamente Al mio attacco Arrivo al volo Preparati ad essere stupita Aia Questo qua sta facendo Male Allora aspettate Allora aspettate che lo blocco perché mi ha Stufato sinceramente Ecco Attaccati alla parete Anche lui lo facciamo fuori Qui stavano praticamente facendo un comizio Attenzione Ci penso io ragazzi Ce ne sono ancora due Lui l'ho bloccato Eee Ce l'abbiamo fatta Allora Prima di procedere Con la missione Volevo completarne anche una Di Black Cat Perché completandole tutte Poi mi sblocca Un nuovo costume Ragazzi Beccato Allora Qui c'è anche uno zaino Uno zaino Che poi in realtà Non è uno zaino Ma è semplicemente Un gadget Eccolo qua Fiore del ballo Entriamo va Magari cambiamoci anche i vestiti Eccomi qua Non crederai mai A cosa è successo Ricordi l'indirizzo Che mi hai passato Ci sono andata Lo so ma Aspetta Che cos'è Ascolta Mi sa che utilizziamo Di nuovo lei Comunque Poco prima Ok Quindi Riutilizziamo di nuovo lei Questo è il posto indicato Da Pete Sono tutti armati Che succede qui dentro Bene Altra missione stealth Che succede Che succede Chi è l'idiota Che ha lasciato La sua roba in giro Eppi scommetto Allora Diamo un'occhiata Dobbiamo arrivare Fino là Allora Possiamo ingannare I nemici Perfetto Attenzione C'è un nemico lì Mi piacerebbe Saperlo Vai qua Stiamo attenti Sempre alle scatole Ok Ok Diamo un'occhiata Che c'è qui dentro Capo Andiamo Lì non la noterà Mamma mia Che bestiolina Hai ragione Non la noterà Perché sarà sparita Ho detto Ho detto che L'ha giusto Hai fegato Tombstone Non lo conosco Sto personaggio Ma vediamo Quanto Non gli ha fatto Niente Che delusione Aia Che male Direi che gli ha fatto Male E ora Mi serve Un saldatore Allora Dobbiamo far muovere Quello lì Buono Ok Siamo dentro Buono Sì è quello che mi chiedo anch'io Qui c'è qualcosa Di molto interessante Rilevatori GPS Come intende Usarli Tombstone D'accordo Gente Ci muoviamo Prendete l'attrezzatura In ufficio Aia Vai vai Ok Vorrei dirti di non farlo più Ma Sapendo che non mi darai comunque retta Tieni Portane qualcuno con te Forte Grazie Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile Vero? Tutti hanno un punto debole Il mio Bolle in pentola proprio ora Che profumino Pollo al curry Tra poco lo servo Non nei fagottini Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No La tragedia dei fagottini Fecero addirittura evacuare l'intero edificio In gennaio oltretutto I vicini volevano uccidermi Sì erano contenti quando ci siamo lasciati Già Ok Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì Beh Sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn Sì ma Perché? Non ne ho idea Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo Qualunque cosa sia Già Vorrà dire che indagherò Sai pensavo E se noi formassimo un team? Aspetta Vuoi essere la mia spalla? Spider Gwen Bravissimo Non di nuovo Attenzione che si brucia Ehi è il tuo sistema anticrimine Pare sia un'effrazione Mazza come l'ha preso al volo Suona familiare Oh È il CFO dell'Oscorp Aspetta Non penserai che abbia a che fare con Liver? È già pronto Scusa Qua ci fuggi Hai Hai lasciato i vestiti per terra in cucina Geniale Peter sei geniale Dove vuoi che io? Beh Qui va bene Lascia A dopo Sì Mamma mia Spider-Man Quante me ne combini Ok eccoci qua Sta anche più vicinando Allora Dove dobbiamo andare? Da quella parte Sono io Questo corinio non è male Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo Direttore finanziario della Oscorp Nella compagnia da più di vent'anni Single Noto per la sua collezione d'arte E se possiede un ottico in quell'edificio Deve essere piuttosto ricco Se ha lì alle carri Dai che siamo quasi arrivati Mi sa di sì Allora Eccoci qua Che caspita sta succedendo Scontro a fuoco E mi sa di sì La polizia ha bisogno di aiuto C'è un po' di gente Allora facciamo così Ah Ah L'hanno visto anche me Dai picchialo Ok Eliminato Lui lo faccio fuori così Vai Vai gritti Faccio volar via Mamma mia Mamma mia Quanti Colpi evitiamo Ok lui è andato Facciamo fuori anche l'altro Lui è per terra E ne manca ancora uno forse Ok forse ce l'abbiamo fatta Nessun problema ragazzi Nessun problema ragazzi Dentro ce ne saranno altri Voi restate qui Ci penso io Ci penso io Ok siamo dentro Qualcuno andava di fretta Ah c'è uno dei nostri Ehi là Arrivano Tutta vostra Anche lui lo blocchiamo subito Sei stato Un bambino Cattivo Ottimo E te ti riblocco E abbiamo risolto il problema Quasi Aspetta Ti faccio fuori così Perché Hai lo scudo E mi da fastidio Lui è là dietro Ne arrivano altri Beh uno l'ho bloccato subito Adesso devo far fuori l'altro Aspetta Che male Aia però Che stress Sti qua con le armi Vabbè ma quanta gente arriva Io cambio strada Eh vabbè Niente Questo qua con lo scudo Mi sta facendo di un male Dobbiamo aspettare che vengano su Toh piglia Ok vedete Tutta tua Ok l'abbiamo sconfitto Ricarichiamo Un po' la vita Eh però niente da fare Ci sono sti qua con le armi Che mi danno Parecchio Fastidio Ecco Via dalle scatole Ok bloccato Sconfitto Forse li ho sconfitti tutti Sì Li ho sconfitti tutti E vai Ne arriva uno grosso Quella che male Vabbè che io anch'io Ho questo potere qua Allora Te piccolino Ti faccio fuori Così Mentre lui fa casino Là sotto Sconfitto? Sì Facciamo che ricaricare Un po' la vita Saliamo su di qua C'è un po' di gente Venga giù Mi stanno lanciando Un po' di roba addosso Allora passiamo di qua C'è niente? No Solo una grata Siamo dentro Ecco Standish Ok E ora Metti la password Missione stealth Sembra nervoso Forse dovrei metterlo capo Ok Allora Quanti nemici ci sono? Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Speravo di giocarmela stealth Volevi colpirmi eh Prima di entrare Non mi devi Toccare Mai più Ok Aia Facciamo così? Testai giù Perfetto Uh ne arriva ancora uno Sconfitto? Sì Li ho sconfitti tutti Andiamo a salvare il tizio Bye bye Sono ancora qua ciccio Adesso possiamo andare a salvare il tizio Spero che Standish Stia bene Aia Questo mi sa che è bello forte Ehi la Vabbè lo facciamo così Adesso ne arriveranno Attenzione Ok sconfitto Forse ce l'ho fatta Proviamo un'altra volta Sì Forse ce l'ho fatta Ah ma Il tizio è andato via Ah no Si è nascosto lì dietro Non è sicuro Cosa cercavano? Solo Registri contabili Sul respiro del diavolo E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia Sono anni che Osborne investe molto denaro Ma Mantiene l'assoluto riservo sul progetto Io sono l'unico a possedere la documentazione Non più Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro Ricevute di pagamento a Un certo dottor Isaac Delaney Chi è? Non ne so molto Oh 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 Dobbiamo scappare Andiamo andiamo Manca completamente L'ascensore manca completamente Salva lo Spiderman Dobbiamo andare a prenderlo E cadi più piano Mi ricordo la scena con Gwen Stacy In Amazing Spiderman 2 Che pelo Forse è meglio andarsene Forse Ehi Yuri Stai bene? Sì Ma non ho scoperto niente di che da Standish Perché sono arrivati gli agenti della Sable E si sono messi in mezzo Che succede? Ho la sensazione che vogliono solo assicurarsi che non parli Perché sa del respiro del diavolo Esatto Qualunque cosa sia A quello sto ancora lavorando Forse ho una pista Una pista? Parli come uno sbirro Vorrei dire come Spider Cop Spider Cop? Ehm Yuri? Me la sono cercata Concordo Su per la grondaia Peter Come sta Standish? È al sicuro Ok bene E i demoni? Erano in cerca di un nome Hai una penna? Sì Vai Dottor Isaac Delaney Ok Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu Ci provo Dammi solo Ah Dimenticavo Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius Ti faccio sapere cosa scopre su Delaney Ok ragazzi ho sbloccato una nuova missione secondaria Direi che però per il momento possiamo terminare questo episodio di Spider-Man Anzi Marvel Spider-Man qua Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Marvel Spider-Man Alla prossima ragazzi Assistenzialabile Alla prossima najonga No No Grazie a tutti.